Natura e cultura enogastronomica si intrecciano grazie a Trekking Primaverili, l'evento organizzato dal comune di Colli al Metauro che permette di scoprire tramite passeggiate la storia e le bellezze naturalistiche del territorio comunale. Ottima la partecipazione nelle precedenti edizioni e quest'anno verranno proposti due percorsi speciali, gratuiti e aperti a tutti. Una terza edizione di Trekking Primaverili che si svolgerà il 7 e 14 aprile. Dopo gli importanti risultati degli anni precedenti torniamo appunto a riproporre questa iniziativa. È un'iniziativa in cui il comune di Colli al Metauro insieme alla travel blogger Valentina Pierucci crede molto, è una occasione di promozione turistica per il turismo sostenibile appunto che ci sta dando dei grossi risultati e dei grossi riscontri. Oltre l'80% dei partecipanti vengono da fuori comune e addirittura anche da fuori regione quindi a riprova insomma della bontà dell'iniziativa. Quello che cerchiamo di fare è mettere in rete le varie realtà del territorio tramite questa appunto iniziativa dei Trekking. Quest'anno in particolare ci andremo ad occupare, andremo a visitare un'azienda vinicola e un'area archeologica che fa parte della rete della Via Flaminia. Per cui mettiamo in contatto, in comunicazione più realtà del nostro territorio. Domenica 7 aprile sarà protagonista a Monte Maggiore al Metauro con il suo vino bianchello. Trekking nell'area archeologica di Tavernelle invece per il 14 aprile. In programma anche un terzo percorso per la settimana che Pesaro Capitale della Cultura dedicherà al comune di Colli al Metauro. L'iniziativa Trekking Primaverili è organizzata dal comune di Colli al Metauro con la collaborazione della travel blogger Valentina Piegucci. Diciamo che in questi Trekking mettiamo insieme un mix di ingredienti e andiamo a scoprire quelle che sono le radici della nostra storia, della storia del territorio di Colli al Metauro, che ci offre tanti spunti. Quindi dall'enogastronomia all'archeologia, perché Colli al Metauro ha un'origine romana, andremo appunto a scoprirli passo dopo passo. Il 7 aprile sarà con noi Nicoletta Tagliabracci, ambasciatrice AIS, sommelier e ambasciatrice dell'enogastronomia del nostro territorio e delle sue eccellenze e andremo alla scoperta del vino bianchello. Il 14 aprile invece sarà la volta dell'archeo-trekking, scopriremo le origini romane di Tavernelle con la dottoressa Vanessa Lani, direttrice dei musei della rete della Via Flaminia. Quindi un appuntamento per tutti, la partecipazione è gratuita, vi aspettiamo!